Musica Buongiorno cadetti, io sono Eli Gabriel e oggi siamo qua su Uncharted 3 Playstation 3 per un'ultima volta, per un ultimo addio, per un ultimo saluto In quanto sono intenzionato a non registrare più altri video su Playstation 3, come avrete già visto sul canale Comunque, parliamo un po' di Uncharted, perché io, lo devo ammettere, lo dico davanti a tutti, proprio chiaro Non ho mai giocato il primo C'è così fatto un capri, oddio Cioè, a dire la verità, ci ho nerdato un bel po' all'Hypercop, quando c'era la console col gioco Mi ricordo alcune missioni, mi ricordo alcuni posti, veramente Mi è sembrata una figata Infatti, dopo, successivamente, ho comprato prima Uncharted 2 Poi, la Playstation 3 No, perché il ragionamento è proprio da furbi, no? Certo, se uno compra prima il gioco della console, è sicuro Sta di fatto che avrei intenzione di fare Uncharted 1, sì Ma, registrando la Playstation 4 nella Collector Collection, come si chiamerà Edition, sì, proprio quella Che uscirà da Playstation 4, non si sa quando Sarà quasi sicuramente annunciata a Leaf Free Che, ragazzi, guarderemo tutti insieme su Twitch Non nel senso che lo fanno tutti, cioè quindi voi lo guardate per i cazzi vostri o per i cazzi miei No, nel senso che io streamerò sul mio canale la conferenza, non in diretta ma è differita Perché la fanno ad ore improponibili per me Poi, magari voi potete guardarle lo stesso E succederà così, lo spero Però, passando oltre, sì, farò Uncharted 1 della Collector Edition Della Collection Edition Perché, come vi ho già detto, per questi problemi non riuscirei a farlo adesso su Playstation 3 Anche se so benissimo che il gioco costa poco Però veramente non ci riesco, ragazzi Proprio niente da fare Io, se non l'aveste ancora fatto, vi consiglio vivamente di giocare la saga Uncharted Ma soprattutto il 2 Perché se non avete disponibilità economica per comprare tutti e tre Vi consiglio vivamente di fare il 2 che è il miglior capitolo Ve lo giuro, è il migliore È stato votato il gioco dell'anno del 2009 Perché sì, è uscito nel 2009 Se non sbaglio Ma non tanto per il gioco dell'anno Perché sì, incide un bel po' sul voto del gioco Nel senso sulla valutazione di quel gioco Ma perché è veramente un gioco che merita Se vi piace l'avventura, se vi piace anche sparare in terza persona Vi ricordo che GTA è in terza persona Giusto per dire Giusto per dire che se vi piace GTA, se vi piace sparare, se vi piace per così Vi potrebbe piacere anche la saga di Uncharted Uncharted 4 Uncharted 4 Uncharted 4 Volevo parlarne in un altro video Ma mi sa che ne parlerò proprio adesso Sì perché stanno andando avanti con gli sviluppi del gioco Ho letto una notizia per quanto riguardava i movimenti della faccia Addirittura di Nathan Drake O Nate, come volete chiamarlo voi Che voi direte Ma chi cazzo è il protagonista? Ovvero quello che sta correndo adesso nel gameplay Quello che si sta dimenando È proprio lui Si parla per ora solo di grafico Nel senso che io ho visto l'alpha L'ho vista in diretta potremmo dire Veramente ho pianto Devo dirlo ragazzi Ve lo devo dire ho pianto Appena stavano per far girare il video di un'altra casa produttrice Perché io dicevo No ma è finito È finito il Playstation Non mi ricordo come cazzo si chiama Perché l'ha fatto tempo fa E io stavo anche male Loro spesso tendono A dire il gioco Che mostreranno nel trailer successivo O che mostrerà E di cui ne parlerà Lo sviluppatore che Arriverà successivamente Arriverà dopo lì nella conferenza Per quanto riguarda Uncharted Non c'era uno sviluppatore a parlare del gioco Ma c'era solo un'alpha Un gameplay Di Uncharted 4 Io cazzo Appena stava per finire Ho detto Ma vi lasciamo con un ultimo video Già lì Partito a piagne Ma non Non triste Cagnere di gioia Di mangioglio Il trailer Cazzo Lì ho pianto Ma appena ho visto il gameplay Due volte ho pianto Cioè per dire no Poi pianto Sì lacrimuccia adesso Non è che Piango come se mi avessero staccato un piede Piango come se mi fosse morto qualcuno Ovviamente capiamoci ragazzi È un videogioco Sì Però c'è anche da dire Che Uncharted 4 sarà Probabilmente l'ultimo Della serie A thief's end Come dice il titolo Alla fine di un ladro E C'è sicuramente da sperare Ad esempio In un The Last of Us 2 Avete ragione Però per uno come me che si è appassionato a una serie così Di Uncharted 5 Dovete finire Ovviamente Come tutti Credo È veramente un dispiacere Anche se prima o poi Sarebbe dovuta finire Perché mandarla avanti Per quanti capitoli Alla fine la storia è sempre quella Nel senso ladro Ruba Direi Puoi girarci Quanto ti pare Ma C'è un limite a tutto Poi dovete contare che non ci sono case sviluppatrici Di videogiochi come la Naughty Dog Che è la Naughty Dog È una spanna avanti A quasi tutte le case produttrici Magari qualche casa tipo From Software Sì Però Sono Case che sviluppano giochi Completamente diversi Quindi non mischiamoli tutti insieme C'è da dire che la Naughty Dog Sa come Soddisfare i propri clienti Sa cosa fargli provare Sa tutto Di tutti Quindi è un narratore onnisciente Perché sa anche le riflessioni I pensieri Sì È proprio lui Uncharted 4 Uscirà Nel 2016 A inizio del 2016 Primavera se non sbaglio 2016 E non l'inverno Avrei sperato vivamente Che fosse uscito Questo novembre Ma niente da fare Sarà per i prossimi mesi Non è un gran problema Perché Spero Che esca una beta Una demo Almeno lì Mi potrò divertire per un bel po' Perché con quando è uscito La beta di Uncharted 3 Potevate arrivare fino a livello 25 Se non sbaglio Quindi merdavate online Come delle merde Anche se sono uscite due beta E devo dire che la pena Faceva abbastanza pagare Anche se erano simili Niente Niente A tornare a vivere ragazzi È veramente una saga fantastica Su PlayStation Uncharted Io vi consiglio Vivamente Di comprare Anche se uscirà una collection Per PlayStation 3 Dei primi tre capitoli E spero Ma ritengo quasi impossibile Che esca Uncharted 4 Per la PlayStation 3 Perché uno ovviamente Per chiudere il ciclo Si rifà tutti su una console Non è che Va a spendere altri soldi Per un'altra Non credo che succederà Però Secondo me Ne vale veramente la pena Con quest'ultimo Capito Che spero che sia Il migliore Il più better Ragazzi Finisce qua il video Io sono Rigabri Ci vediamo al prossimo Lasciate un like Commentate e condividete Se avete qualcosa da chiedermi Per quanto riguarda Uncharted PlayStation 3 Voi chiedete Chiedete qualsiasi cosa Magari vi rispondo Magari no Io sono Rigabri Riposo Carissimo